Nella scorsa lezione ci siamo occupati di Andrea del Verrocchio e con Andrea del Verrocchio abbiamo cominciato a parlare di eclettismo, quindi di artisti che non si occupano di una sola forma d'arte ma che si impegnano insieme alle loro botteghe nella realizzazione di un lavoro, diciamo così, potremmo dire oggi oristico, cioè un lavoro che tratta tutte le possibilità del campo artistico, quindi arredatori, moblieri, argentieri, bronzisti, grafici, ogni genere di operazione legata al mondo dell'arte. Oggi ci occupiamo di un altro artista contemporaneo di Andrea del Verrocchio, Antonio del Pollaiolo, il cui soprannome Pollaiolo deriva appunto dalla professione del padre che era un semplice pollivendolo, artista anche questo eclettico di grandissime capacità e che a modo suo avrà un'influenza molto importante insieme appunto al Verrocchio per quello che riguarderà lo sviluppo del rinascimento successivo, del rinascimento maturo. Vedremo per esempio in particolare come artisti di grandissima levatura come Signorelli, come Piero Perugino, come lo stesso Botticelli avranno, subiranno l'influenza importante, pesante, determinante degli studi sia di Verrocchio che di Pollaiolo. Pollaiolo il quale si occupa di studiare le collezioni medice e quindi diciamo gli esempi antichi ellenistici dai quali trae ispirazione non solo da un punto di vista formale ma anche per esempio da un punto di vista tecnico. Pensiamo ad esempio alla tecnica del bronzetto che era molto di moda nella fase diciamo ellenistica dell'arte greca che poi cade in disgrazia che grazie ad artisti proprio come Pollaiolo torna prepotentemente in auge. Se oggi andiamo per esempio al Museo del Bargello troviamo tanti esempi importanti di bronzetti rinascimentari. Pollaiolo è un artista, abbiamo detto a tutto tondo, un artista eclettico, quindi uno scultore, un pittore, ma si occupa in particolare di disegno e di grafica e per noi è molto importante questo perché una delle sue opere fondamentali realizzata intorno al 1470, la cosiddetta Battaglia di Nudi, è la prima stampa d'arte, tra cui la più antica stampa d'arte fino ad oggi conosciuta, ve la mostro. Un'opera dove si vede evidentemente, si tratta di un'incisione sul rame a bulino, si vede evidentemente lo studio del mondo classico, del mondo antico, si vede nelle anatomie, si vede nella composizione chiastica di queste figure. Ora mi perdonerete ho evitato di inserire per l'ennesima volta le linee forza, le guide, diciamo così, di linee ascendente e discendenti che formano questi chiasmi, ma a partire dalle due immagini centrali, dallo scontro fra questi due nudi al centro dell'immagine, si vede proprio come si organizza la scena secondo figure ponderate, contrapposte e chiastiche. Questo evidentemente deriva dal mondo classico ellenistico, da uno studio abbastanza attento, per esempio, della pittura vascolare. È evidente che in questa volontà di dinamismo nel turgore della muscolatura, nell'esplosività di questi corpi, noi troviamo degli elementi che a noi oggi appaiono decisamente sgraziati rispetto all'esempio più lineare, più sintetico, per esempio, della pittura vascolare greca, ma la derivazione è abbastanza evidente. Sono evidenti anche altri caratteri abbastanza interessanti, uno dei quali è il fatto che trovandoci nel pieno rinascimento ci si esprime in maniera evidentemente più consapevole, più esplicita e quindi si abbandonano alcune delle rigidità, delle quali poi parlerà anche Vasari, del primo rinascimento. In particolare, per esempio, in questo caso Pollaiolo abbandona la prospettiva lineare centrica come regola geometrica che non può essere superata in nessun modo. Quello che si vuole in questo caso è dare un senso di una prospettiva più atmosferica, una prospettiva, diciamo un contesto nel quale si muovono delle figure. Quello che interessa è proprio l'anatomia umana in movimento, cioè un interesse per la resa dei corpi nello spazio, per cui la rigidità, diciamo, del sistema geometrico, matematico, troppo puntuale, in qualche modo interpretato in maniera puntuale, del modello appunto Brunelleschiano, viene abbandonata in favore di una forma di decorativismo, di linearità completamente nuova che appunto danno un senso di atmosfera. Senso di atmosfera ma con l'idea di dare appunto l'apparenza, la sensazione e soprattutto la forza dei gesti, quindi un realismo, un'espressività fortissimi, un carattere estremo, diciamo, di questa figurazione. Bisogna considerare che non si tratta come accadeva nella pittura vascolare o comunque nell'arte classica, non si tratta di una battaglia vera e propria o di una scena storica o di una scena mitologica. In questo caso l'unico interesse è proprio quello di rappresentare una serie di nudi nello spazio, come se si trattasse appunto di uno studio, potremmo dire, di uno studio di nudi. E quello che interessa in modo particolare e che poi influenzerà moltissimo, un artista per esempio come Signorelli, che si occuperà proprio dell'anatomia dei corpi in modo particolare, è proprio la composizione anatomica. Vedete che in questo caso questi muscoli sono rilevati, visti muscolo per muscolo, con un chiaroscuro attentissimo ai dettagli. D'altra parte sarà proprio Vasari a dire, a raccontare, spellò molti cadaveri per vedere come erano fatti di sotto e fu il primo a mostrare il modo di cercare i muscoli secondo la forma e l'ordine che hanno sulle figure. Questo dovrebbe anche farci pensare, tra l'altro vedete sopra l'immagine diciamo della pittura vascolare, delle attività ginniche raccontate appunto nell'antica Grecia, sotto invece l'interpretazione moderna nel senso di rinascimentare di Pollaiolo. Questa attenzione ai muscoli, che è un'attenzione quasi scientifica, dovrebbe farci risuonare in mente anche la figura del giovane Leonardo da Vinci che abbiamo detto formarsi nella bottega di Verrocchio con un fortissimo interesse per, non so, la botanica, l'osservazione della natura, la geologia, cioè le scienze idrauliche, tanto che oggi noi consideriamo Leonardo quasi più uno scienziato che non un artista. È vero che Leonardo si forma con Verrocchio, è vero anche che Verrocchio e Pollaiolo fanno parte dello stesso contesto, dello stesso milieu e quindi è evidente che questo è proprio un atteggiamento, diciamo così, un atteggiamento diffuso. Ecco, questa tendenza a voler dare una forma quasi di esasperazione, il carattere estremo di realismo e della tensione emotiva, noi lo ritroviamo in un ciclo di dipinti che purtroppo non esistono più, del quale abbiamo le descrizioni, che Piero il Gottoso, che era il padre di Lorenzo il Magnifico, aveva fatto realizzare a Pollaiolo per Palazzo Medici, una serie di dipinti che rappresentavano la vita di Ercole, del quale noi abbiamo delle risposte, diciamo così, una pallida traccia, attraverso delle realizzazioni di bozzetti portate a termine dopo la realizzazione dell'intero, una cosa un po' particolare, cioè evidentemente quest'opera realizzata intorno al 1460, questo complesso di dipinti aveva avuto grandissimo successo e l'artista successivamente intorno al 1475 realizza per esempio il bronzetto che oggi si trova, questa è la scena di Ercole e Anteo, il bronzetto che si trova appunto al Bargello e dall'altra parte la tavoletta dipinta che si trova agli uffizi. In entrambi i casi si tratta evidentemente di bozzetti, nel senso che il bronzetto è di piccolo formato e anche il dipinto è di piccolo formato, dove si vede appunto questa estrema volontà di rappresentazione del sentimento, anche sentimento deformante. E apriamo una brevissima parentesi, Ercole esattamente come David, erano due personaggi mitici, mitologici, biblici nel caso di David, che andavano molto di moda nella pubblicistica fiorentina perché rappresentavano in entrambi i casi qualcosa di terreno che sconfigge qualcosa di ultraterreno, di eccessivo. David è una persona normale, un ragazzo, un fanciullo che col cervello sconfigge il gigante Golia, in questo caso abbiamo un semidio, non un dio per il proprio, è Ercole che sconfigge un personaggio, Anteo, che difficilmente può essere sconfitto perché essendo il figlio di Gea ogni volta che tocca terra riacquista le sue forze, quindi lui è costretto a stritolarlo tenendolo sospeso anche per fare in modo che non ci sia contatto fra appunto Anteo e la madre Terra. In entrambi i casi si rappresenta una situazione di normalità, quindi una situazione di minorità che in qualche modo combatte la iubris e quindi vince contro la trapotanza, contro la violenza cieca, contro la disumanità, diciamo. Se Firenze si incarna spesso in questa idea del piccolo che riesce a battere il grande, il prepotente attraverso la sua razionalità e la giustizia. Quindi un eroe in questo caso fiorentinizzato che ha un aspetto assolutamente popolare, comune, quindi noi non vedremmo, diciamo così di buon occhio, se pensiamo al primo rinascimento o all'arte classica per l'appunto, un Ercole con questo naso così pronunciato, o delle smorfie così violenti, o un Anteo che grida di dolore. Guardate il particolare di questo Anteo con la bocca spalancata che ci ricorda appunto forse alcuni eccessi diciamo di pathos che possiamo aver trovato nel corso del Medioevo, per esempio con un Giovanni Pisano, cioè questa volontà di espressione violentissima del dolore e questa attenzione minuziosa alla linea di contorno, in questo caso proprio alla linearità dell'immagine, caratteristica che ritorna in tutta l'arte del Pollaiolo. Se noi guardiamo per esempio il ritratto femminile della collezione Poldi Pezzoli, noi troviamo questa fanciulla delicatissima dove troviamo appunto queste caratteristiche linearistiche disegnative, la forte linea di contorno, l'attenzione per i dettagli, tutti elementi tra l'altro che corrispondono ad una fascinazione conturbante potremmo dire con il mondo fiammingo. Abbiamo già detto che a Firenze passano artisti fiamminghi, arrivano opere fiamminghe, quindi questa attenzione per la resa minuziosa di questa pettinatura a Vespaio, per questo la resa delle perle e dei finiche, hanno un significato forte, simbolico di purezza e di passione, questa attenzione per la resa dei velluti, per esempio della manica di questo corpetto, il rosso delle labbra, cioè un'attenzione minuziosissima che però viene inserita in un contesto che non è completamente fiammingo, perché per esempio si sceglie di rappresentare la figura perfettamente di profilo, cosa aveva fatto per esempio Piero della Francesca nel doppio ritratto, che è un'interpretazione assolutamente italiana, mentre l'arte fiamminga prediligeva il ritratto di tre quarti, in Italia appunto si predilige questo aspetto di assoluto profilo che viene appunto dalla numismatica romana e quindi dall'arte classica. Vedete però in compenso le leggerissime nuvole che solcano questo cielo atmosferico, questo sì ha un gusto diciamo così vagamente fiammingo, perché evidentemente in questo periodo si riesce a mescolare una serie di fascinazioni. E proviamo a chiudere con un'immagine che è questa, che spesso è stata considerata un'immagine di bottega oppure attribuita al fratello di Pollaiolo, ma che oggi è stata restituita secondo me in maniera assolutamente credibile ad Antonio Pollaiolo, quindi un'opera probabilmente autografa, dove si vede questo forte linearismo che riesce a compattare in qualche modo la figura, dove si vede lo squisito realismo, la normalità, diciamo proprio l'umanità di queste due figure, che sono due figure normali, pur essendo la reificazione e l'incarnazione di un concetto, perché Daphne che si trasforma in un albero di alloro, che poi sarà portata come soggetto al suo trionfo nel Seicento da Bernini, rappresenta appunto un concetto, è uno degli episodi delle metamorfosi che viene appunto illustrata, figurata, quindi un simbolo, però c'è anche una grande resa dei dettagli e un'attenzione, se guardate per esempio lo sfondo, per questo paesaggio che ormai è già a metà fra il paesaggio lenticolare di tipo fiammingo e qualcosa di nuovo, questa tendenza ha la sfumatura in grigio verso le estremità, verso l'orizzonte, che poi diventerà appunto lo sfondo tipico, diciamo, del trattamento leonardesco del colore. Perché è così importante? Perché evidentemente tutti questi caratteri, molti caratteri diversi, si fondono insieme in un rinascimento che, come diceva Asari, è meno secco, è meno duro, è più sciolto e questo sarà importante proprio nell'esportazione del rinascimento nel resto d'Italia, perché partendo appunto da Firenze vedremo che avremo un rinascimento umbro-laziale, artisti fiorentini che si spostano a Roma per realizzare la parte bassa del registro inferiore della Cappella Sistina, ma poi per esempio anche a Nord, attraverso le varie incursioni di artisti fiorentini nel nord Italia, avremo delle corti, delle forme, dei linguaggi rinascimentali, ma che sono linguaggi rinascimentali ognuno autonomo rispetto agli altri, nel senso che ognuno ha una sua capacità espressiva particolare, diciamo una sua specialità. Vedremo Ferrara, vedremo Mantua con Mantegna, vedremo Venezia con Bellini, con Antonello La Messina, che pur essendo siciliana appunto importa, per così dire, a Venezia la pittura d'olio e tutta una serie di caratteristiche, o Milano, cioè il Nord Italia e poi il Nord Europa che riescono a mescolare vari elementi per creare qualcosa di completamente nuovo e questo sarà l'argomento delle nostre prossime lezioni.